Antonio Mosarra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E benvenuto davvero nel nostro podcast il posto delle parole per attraversare, attraversare un libro che non può che dirsi un libro di straordinaria avventura perché questo è soprattutto, ed è un'avventura dove l'immaginazione ha veramente un grande spazio ma soprattutto la volontà di conoscenza perché senza di questa l'immaginazione, l'avventura probabilmente non esisterebbe. Antonio Mosarra è autore del saggio intitolato L'isola che non c'è, geografie immaginarie fra Mediterraneo e Atlantico. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Il Mulino. Leggo un risvolto che Antonio Mosarra insegna storia medievale alla sapienza di Roma. Con Il Mulino ha già pubblicato diversi libri, Genova e il mare nel Medioevo, poi il grande racconto delle crociate scritto con Franco Cardini, Medioevo, Marinaro, le crociate. Da che cosa deriva Antonio Mosarra? Mosarra ha questo suo grande amore, questa passione, questa continua ricerca nel tempo del Medioevo? Beh, intanto grazie, grazie per l'invito e grazie per appunto permettermi di parlare di questo libro ma anche di rispondere a questa domanda che è estremamente importante perché il Medioevo è soprattutto avventura e questo è quello che mi ha spinto, diciamo così, a coltivarne lo studio sin da quando ero giovanissimo, diciamo così, e poi a portarlo avanti nel mio percorso universitario prima e nel mio percorso di ricerca alla ricerca di carte d'archivio. Innanzitutto io mi sono formato a Genova presso l'archivio di Stato genovese e lì ho respirato un po' di aria marittima, diciamo così, studiando proprio l'avventura genovese alle crociate in questo dodicesimo e tredicesimo secolo che vede le città di mare italiane partecipare a questo movimento verso oriente finalizzato alla conquista e poi alla difesa di Gerusalemme, alla conquista e alla difesa della terra santa cristiana e da lì è nato il mio percorso di ricerca che proprio dalla crociata poi si è allargato alla storia della navigazione perché in crociata i genovesi ovviamente vivanno innanzitutto per mare, vivanno con le galè, vivanno con le navi e da qui è nato l'interesse per questo mondo marinaro che devo dirlo in Italia è ancora molto poco studiato, molto poco approfondito ma che ha lasciato proprio negli archivi italiani, ho parlato di Genova ma vorrei citare anche Venezia naturalmente, Pisa, gli archivi del meridione, molteplici fonti attraverso le quali poter indagare sia il modo in cui i nostri medievali andavano per mare ma anche il modo in cui i nostri medievali immaginavano in certo qual modo il mare ed è questo poi l'origine dell'isola che non c'è di fatto. Seconda stella a destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è, forse questo ti sembrerà strano ma la ragione ti ha preso un po' la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E queste parole, le parole della canzone di Edoardo Bennato sicuramente tornano alla mente di tutti quanti noi parlando dell'isola che non c'è e mi sono chiesto proprio sulla base di questa canzone, Antonio Musar, quanto quella canzone, questa canzone ha portato nel tempo molte persone a scoprire, a incominciare a immaginare proprio quell'isola, quelle isole che lei racconta in questo saggio. Ma sì, diciamo che questa canzone è stato un po' il motivo di sottofondo della stesura di questo saggio, una canzone che io come molti altri portiamo nel cuore, io la ricordo da quando ero bambino e poi adolescente, nei campi scout, attorno al fuoco, cantata in decine di occasioni, perché è una canzone che dà speranza ed è questo che ci ricorda continuamente che non bisogna perdere quella bussola che ci permetta ogni tanto di guardare il cielo, oltre che le, ahimè, questioni di qua giù. E io ho voluto proprio intitolare il libro con questo verso meraviglioso, perché di fatto anche la stesura di questo libro è stata per certi versi un'avventura. Un'avventura all'interno di un tempo e di uno spazio che possiamo soltanto immaginare, che ci è restituito grazie all'immaginazione stessa dei nostri medievali e che, grazie alle competenze che si guadagnano lavorando negli archivi, è stato possibile al fine mettere su carta una vera e propria avventura, un'indagine, potremmo dire così, che è andata a indagare che cosa? Il modo in cui i nostri medievali, guardando quelle isole immaginarie che si riteneva fossero presenti nell'oceano in particolar modo, a un certo punto finirono per trovarle davvero. È una sorta di storia della fantasia, una sorta di storia dell'immaginario. Queste isole erano appunto immaginate nelle maniere più diverse. E da dove derivava questa immaginazione? Beh, derivava dalle letture stesse che i nostri medievali compivano. Di queste isole aveva parlato il mondo antico, in particolar modo il mondo classico, quello greco e poi quello romano e il medioevo si nutre di questa cultura classicheggiante, ma la reinterpreta ovviamente a modo suo, all'interno di un contesto cristiano, all'interno di un contesto enciclopedico. E qualcosa però cambia, qualcosa però cambia. Il libro ruota letteralmente attorno a questo cambiamento che ha luogo, grossomodo fra due e trecento, per intenderci l'età di Dante, nel momento in cui queste isole di cui si era vociferato da tempo, che si erano immaginate, i cui abitanti si erano immaginati, beh a un certo punto vengono effettivamente trovate. L'isola non trovata viene trovata, potremmo dire. E dove la si trova? Beh in quell'Atlantico Mediterraneo che è prospicente, le colonne d'Ercole. La scoperta delle Canarie è il primo grande momento di questa avventura. La seconda parte del libro dunque descrive il noto di conquista nei confronti di queste isole e degli altri arcipelaghi che tra trecento e soprattutto nel quattrocento, grazie alla spinta di un personaggio straordinario come Enrico il Navigatore, portoghese, ma soprattutto con la forza e l'intraprendenza degli italiani, genovesi e veneziani innanzitutto, queste isole vengono ulteriormente trovate. Però c'è un però. Nonostante questa scoperta, ed è questo che mi ha affascinato tantissimo, nonostante queste scoperte, beh ancora nel Quattrocento sorgeranno nuove isole immaginarie. L'isola di Antilia o l'isola delle Sette Città, l'isola di Ibrasil, Frislandia e così molte altre. Cioè la spinta dell'immaginario non si ferma con la scoperta, ma alza l'asticella, spinge la fantasia, per citare Montale, sempre più in là. Sempre più in là. È proprio il primo capitolo, si intitola più in là. Esattamente. Pagina dopo pagina, che cosa fa Antoinette Musar? Spinge la nostra immaginazione, lei ha citato poco fa la poesia di Montale, che tra l'altro troviamo anche questo saggio, spinge la nostra immaginazione, il nostro desiderio di conoscenza, come quello vissuto nel tempo che lei racconta, sempre più in là. Ed è forse questa la missione umana, filosofica, anche mitologica, se così vogliamo dire, di noi umani da sempre. Sì, di fatto sì. Non a caso appunto il libro ha un'estensione temporale lunghissima, cioè mostra di fatto come i stessi desideri che erano stati di Esiodo, che erano stati di Plinio il Vecchio, beh, li si ritrovano in personaggi come lo stesso Dante, come Cristoforo Colombo, come dopo di lui Torquato Tasso. Cioè è un libro che va proprio alla ricerca di quello che è stato il desiderio umano, compiendo proprio un paragone tra Ulisse, se vogliamo, e la sua Velletas, per citare sempre i nostri medievali, e invece l'Ulisse cristiano che è appunto Cristoforo Colombo. In fondo si tratta di indagare ciò che questi uomini, questi esploratori, si immaginano di trovare scovando l'ignoto, e che dunque si mettono a cercare, e ciò che invece trovano. Questa discrasia provoca tutta una serie di corti circuiti che vengono risolti con le categorie tipiche del pensiero medievale, ed è questa forse la cosa più affascinante. Le categorie del pensiero medievale sono diverse dalle nostre, vanno lette con uno sguardo antropologico, se vogliamo, uno sguardo di antropologia storica, e conoscerle significa cercare di penetrare il modo in cui uomini e donne vissuti 800-700 anni fa pensavano, ragionavano e guardavano al mondo. E qui c'è naturalmente il secondo viaggio. Il primo è un viaggio nell'immaginario, e il secondo viaggio è un viaggio nell'intimo di queste persone che ci hanno lasciato, chi nelle carte nautiche, chi nei trattatelli trequattrocenteschi, chi nei versi sublimi di Dante, un accenno di quella che era la sostanza dei loro sogni. La sostanza dei loro sogni, che forse è proprio da trovare nell'intersezione tra ciò che si crede o si spera di trovare e ciò che poi effettivamente viene trovato. Ed è quello che viene effettivamente trovato. Non è forse, sempre che io abbia letto bene il suo saggio, non è forse una missione da compiere, ma l'importante è proprio pensare di trovare. Ecco, è quella la molla, l'antica curiositas. Sì, assolutamente. La convinzione di poter trovare, basata sulle autorità del passato, è questa convinzione che muove coloro che si pongono su una nave, su una galea, su una caravella, e sempre di più su una caravella, per gettarsi letteralmente all'esplorazione del nignoto. È una convinzione fortissima che spinge dunque alla scoperta, spinge dunque all'esplorazione, mostrandoci un mondo che è molto più mobile di quanto noi si sia portati a pensare. Il nostro concetto di Medioevo spesso è mediato dalla cinematografia, spesso è mediato dalla grande letteratura, penso al nome della rosa, i pilastri della terra, ma in realtà questo mondo medievale è molto più mobile, guarda molto di più all'orizzonte, possiamo dire così, di quanto noi si possa immaginare. E questa forse è un'altra grande scoperta che noi medievisti abbiamo il compito di comunicare, e lo facciamo con i libri soprattutto. E in questo libro c'è una parte iconografica straordinariamente importante, perché pensare che il mappamundi veniva disegnato per esempio all'inizio del 1300 quasi con un dettaglio che, certo, non è simile a quello attuale, ma in ogni modo c'è quasi una perfezione, e qui non conta più l'immaginazione, conta veramente l'essere cartografo, andare intorno alle terre per creare una geografia, e quello che si stava creando era veramente una nuova geografia, a tutti gli effetti Antonio Musarra. Sì, diciamo che la fonte principale di questo studio è stata proprio la carta nautica, e qui siamo di fronte a un piccolo giallo storico, perché? Perché attualmente noi medievisti, così ci definiamo, non sappiamo come abbiano fatto costruire questi oggetti di una perizia incredibile. Chiaro, abbiamo formulato alcune ipotesi, probabilmente tracciavano, mappavano dei brevi tratti di costa, e poi cucivano tutto assieme. Certo è che la carta nautica sorge tra la fine del 200 e l'inizio del 300, la prima di cui sia notizia del 1270, la prima concreta che possediamo, è conservata a Firenze del genovese Pietro Vesconte, risale al 1311, sorge quasi dal nulla, e questo è sicuramente un elemento interessante, ma è in queste carte così precise che via via progressivamente vengono inseriti elementi di quell'immaginario che comunque si dà per certo. Le carte nautiche vengono dunque a mescolarsi con quella che era la rappresentazione grafica precedente, che naturalmente era simbolica, le famose carte T-O, molto caratteristiche, in cui una grande T che rappresentava fondamentalmente il Mediterraneo e i suoi fiumi principali veniva iscritta all'interno di una grande O, il cerchio dell'oceano e i tre continenti a fare da corona. Ecco, queste carte simboliche che descrivevano fondamentalmente il dettato biblico vanno sovrapponendosi lentamente alle nuove carte nautiche, sicché nel 300 noi avremo delle carte T-O con la precisione delle carte nautiche, le quali riporteranno quegli elementi simbolici della cartografia precedente. È una commissione di grande interesse che va vista, soprattutto va vista, va osservata, va apprezzata ed è questo il motivo per cui assieme al mulino abbiamo deciso di corredare il volume con alcune immagini. Poi nel 400 avremo un'ultima rivoluzione, la riscoperta della geografia greco-romana, quella tolemaica, possiamo dire, la quale tornerà in auge grazie alla traduzione dei testi di Ptolomeo e che produrrà carte ulteriori che saranno diverse per converso, saranno addirittura meno precise della cartografia nautica trecentesca e ci sarà una nuova commissione fino ad arrivare all'idea, l'idea di rappresentare il tutto in una sorta di globo rotondo, il primo del quale risale proprio al 1492, data iconica, ed è opera di un cartografo imprenditore tedesco di Ernorinberga, Martin Beahim, che lo chiamò niente meno che la mela terrestre, l'Erd Apfel. E lì abbiamo nuovamente la precisione della carta nautica, ma l'inserimento di una serie di notizie leggendarie che derivavano da questo patrimonio di conoscenze mitiche, mitologiche che il mondo medievale aveva sulle proprie spalle, sotto forma di cartigli, piccoli cartigli molto molto densi e scritti vicino alle stesse isole. Ed è probabilmente questo il mondo che Cristoforo Colombo osservava nel preparare la propria impresa, nel momento in cui lui stesso dice nel diario di bordo di aver osservato globi, atlanti, di essere certo che nel mezzo dell'oceano, tra il Portogallo e la favolosa Cipango, il Giappone di Marco Polo, beh, esisteva un'isola, c'è un'isola di nome Antilia, presso la quale lui si sarebbe fermato ed è così che tenta di fare nel corso della propria navigazione. Ovviamente l'isola non c'è e nuovamente avremo lo spostamento di Antilia più in là, le Antille. Ma come Antilia non c'è? Antonio Musar, ma e come la mettiamo allora con Quicquo, Quazio, Paperone? Eh beh, questa grande storia di Carbarks che negli anni 50 volle riprendere la leggenda di Antilia che è legata alla famosa vicenda delle sette città d'oro che proprio Martin Beahim riporta nel proprio globo, nella propria mela terrestre. Sette vescovi in fuga dalla penisola iberica dopo che nel 711 vi fu l'invasione islamica i quali con i propri tesori si sarebbero ritirati su quest'isola e avrebbero costruito sette città d'oro. E il genio di Carbarks vi porta addirittura Zio Paperone che naturalmente scopre che l'isola è talmente pesante ovviamente d'oro che addirittura è capovolta. è sott'acqua e ogni tanto però si capovolge ulteriormente e ritorna a galla. Quindi questi sono mipi diciamo così che penetrano anche nella nostra cultura novecentesca diciamo così ma che hanno una coda importantissima, interessantissima in quella che sarà l'epopea dei cosiddetti conquistadores che non faranno altro che trasportare nel bene e nel male naturalmente nel nuovo mondo questi miti andando chi alla ricerca della fonte della giovinezza chi alla ricerca dell'imbio dorado e quindi dell'eldorado e così via miti che precedentemente erano collocati proprio su quelle isole che il mondo medievale aveva cercato da tempo. Antonio Musarra per i nostri ascoltatori questo libro L'isola che non c'è ci permette di scoprire e immaginare mondi straordinari e a questo punto ci fermiamo su un'isola quale sceglie per raccontarcela? Ma forse una delle più interessanti è l'isola di Brasil e dirò subito che è una delle ultime che vengono a essere cercate diciamo così dal mondo medievale e che addirittura ne esistono due ecco un giallo è proprio questo a partire dagli anni 60 del 300 di isole di Brasil i cartografi ne segnano due una grosso modo all'altezza delle azzorre l'altra invece al largo dell'Irlanda e c'è un motivo da questo punto di vista non voglio naturalmente svelare troppo ma il motivo è che con quest'isola il mondo portoghese intendeva riferirsi alla fonte del legno Brasil Brasil Wood da cui si ricavava un colorante rosso quindi l'isola dei portoghesi fondamentalmente era un'isola commerciale esistente non esistente identificabile con le azzorre non lo sappiamo il mondo irlandese invece collocava nell'oceano un'isola presso la quale si erano ritirati da molto tempo gli eroi del passato il cui nome era probabilmente simile ma che venne a un certo punto sovrapposto a quella dell'isola di Brasil la quale quella portoghese che poi avrebbe dato il nome naturalmente al Brasile perché proprio sulle coste del Brasile si sarebbe trovato lo stesso legname quella irlandese ha tutt'altra vicenda deriva dalla mitologia celtica viene collocata in pieno oceano e però è legata a una vicenda interessante nel momento in cui un grande navigatore dell'età di Colombo Giovanni Caboto tra il 1497 il 98 dichiarerà apertamente in alcune lettere di mettersi alla ricerca di quest'isola di High Brasil sulla rotta settentrionale per fondamentalmente nascondere i propri viaggi verso Terranova ovvero verso i grandi banchi di pesce di Terranova che questa è una sensazione ma non me ne vogliono i colombisti probabilmente erano già stati scoperti da qualche tempo forse addirittura prima del fatidico 1492 questa è solamente un'ipotesi naturalmente di lavoro però è significativo il fatto che nelle proprie lettere egli identifichi quest'area e forse la stessa Terranova con l'isola di cui avevano parlato gli irlandesi e si metta alla sua ricerca questo è solamente un esempio appunto di quelle che sono le leggende legate a questo mondo insulare fantastico ma molto legate al contempo anche alla concretezza dei viaggi che bisogna ricordarlo sono spesso viaggi finalizzati a motivazioni economiche ecco quale appunto quello di Giovanni Caboto l'isola di San Brendano l'ultima Thule e sono delle isole straordinarie l'isola le isole Fortunate Antiglia come abbiamo già avuto modo di ascoltare molte altre presenti in questo libro l'isola che non c'è geografia immaginaria fra Mediterraneo e Atlantico però io vorrei in chiusura di questa conversazione Antonio Musara ritornare proprio sull'elemento del mappamundi della cartografia prendendo come spunto la frase che lei mette all'inizio della conclusione del saggio Martin Heidegger dall'epoca dell'immagine del mondo scrive il tratto fondamentale del mondo moderno è la conquista del mondo risolto in immagine ora questa frase qua attraversa tutte le antiche conquiste ma riesce con la sua forza attraversare anche il mondo presente e ovviamente anche quello futuro e in che modo secondo il suo pensiero Antonio Musara qui entriamo in un discorso molto complesso che io ho appena accennato in fase conclusiva prendendo spunto appunto da Heidegger a questa sua celeberrima frase il mondo moderno io direi ha l'illusione di contenere tutto ha l'illusione di controllare tutto perché perché controlla potremmo dire banalmente la geografia controlla la conformazione del mondo presume di conoscere il mondo in tutte le sue parti potendolo addirittura risolvere in immagine e quindi osservarlo guardarlo il che vuol dire politicamente controllarlo e tenerlo a bada infonde un po' anche la presunzione dell'oggi in questo oggi così tragico in cui appunto ci si contende ancora confini tracciati su una mappa non siamo molto distanti diciamo così ma che sia un'illusione però è un dato di fatto basti pensare a tutto ciò che ha luogo dopo Colombo e ai rivolgimenti politici economici militari dell'intera età moderna ma possiamo dire però che questo tentativo sia comunque presente nell'animo umano quel che ho voluto dire anche in fase conclusiva appena accennandolo ma lasciando poi che siano il lettore diciamo a svolgere le proprie conclusioni è anche questo però che con la progressiva conoscenza degli spazi geografici il mondo medievale quello moderno conoscono cominciano a conoscere un concetto di trascendenza diverso la trascendenza che ancora Dante collocava basta vedere la commedia pienamente su questa terra guardando alla sua geografia guardando alla collocazione della montagna del purgatorio ad esempio viene finalmente con la conoscenza del mondo con la esplorazione degli oceani viene collocata altrove è una vera pura trascendenza che poco ha a che fare con l'immanenza di un mondo potenzialmente possiamo dire così controllabile che sia una tentazione non lo so lo lascio appunto ai lettori che sia una strada percorribile però questo sì è una strada che deve essere in ogni modo percorribile non per una semplice volontà di volo dell'immaginazione ma è un'immaginazione che ha molto a che fare con l'elemento l'elemento razionale io ho citato Edoardo Bennato ma non possiamo non citare tra le tantissime citazioni in questo libro anche quella sempre musicale di Francesco Guccini in particolar modo per l'ultima Thule ma prima di salutarci Antonio Musarra qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? ma allora in questi giorni io sto leggendo un classico con mio figlio che è Un canto di Natale di Dickens è appunto un classico mio piccolo ha appena otto anni e lo sta apprezzando tantissimo per cui penso che sia un libro che non possa mancare nelle nostre librerie e forse anche un augurio per un Natale che sia sereno veramente ma Antonio Musarra visto che ha parlato della lettura suo figlio del canto di Natale ma non ha mai raccontato alcune storie di queste isole che non ci sono perché sono storie affascinanti credo per tutti da bambini adulti tutti quanti chi ne pensa come no dirò di più abbiamo anche recuperato quei numeri di Topolino ma allora il cerchio si chiude bellissimo naturalmente no io condivido sempre moltissimo con i miei familiari tutte le cose che scrivo ovviamente per quanto possibile ma è un processo diciamo così quotidiano anche perché se no non riuscirei a fare questo mestiere che prevede comunque di immergersi nello studio nella lettura nella ricerca fondamentalmente quotidianamente e notturnamente possiamo dire ogni giorno ogni notte per cui cerco il più possibile di raccontare loro quel che vado ricercando ed è stato così anche con le isole posso dire che loro sono sempre i miei primi uditori diciamo così e mia moglie è la mia prima lettrice grazie davvero Antonio Musarre buona giornata grazie grazie a voi